Mirko togli il calderon tipo ora Non è un vadoleiro No il calderon Inca Togli tu il calderon Ok Allora Oggi manca elettro però Si Ragazzo Risartiamo Aspetta Inca Oggi manca elettro però Mirko però per favore Già mi sto cercando di non ridere Se tu mi piace anche gli scaffali Così mi fai ridere Ok 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 Togli il blocco verde Dalla mano Oggi manca elettro però C'è sempre un nostro piccolo aiutante Piccolo aiutante Vuoi entrare nel nostro mondo Piccolo aiutante Mezzo schiavizzato Siiii Vai Ti aspettiamo Eccolo qua Il nostro piccolo aiutante Tu sei contento di essere oggi nella serie SCP Intanto seguici Ma proprio un botto cazzo Bene Mi fa molto piacere cosa sto facendo Siccome E' elettro E' in abruzzo E' stato probabilmente rapito dal Tashmahal Spondo al telefono E quindi abbiamo invitato questo nostro piccolo amico Tu sai già cosa è un SCP Però Comunque tu non sarai nella serie principale Ti informo Sarai qua una volta ogni tanto In supplenza Va bene? Sono tipo un insegnante Esatto A badare le credore Allora Mirko Bottone creativo Se un uomo qua ci sta Piazzalo qua Vai Aspetta lo schiasso io Schiasso io Allora qua Cosa c'era? Eeeh C'è Forse un problema Mirko C'è un SCP in fuga Togli il bandolero Per favore Qua triste C'è C'è un SCP in fuga Ragazzi Bene Ma avete dei tubi di fallopio Che rompono le palle nella stanza o? Questo qua sono E comunque sai perché No no Aspettate amici Cosa? Inca? Cosa? Allora Ti ricordi quello che appena finito di dire Senza ripeterlo? Ok Sai Che bene Quello che hai detto O vuoi che te lo faccia cercare Prima? Ok però C'è Speriamo che non venga messo Ecco Ti ho detto E dopo te lo diciamo Adesso non si può dire Magari Allora Comunque perché c'era un SCP in fuga? Perché quello lì spacca i muri Fatto sta Mirko Anzi Inca illumina Sta che mi spacca anche la cella nuova No Ma dite che è uscito anche dal laboratorio? No 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 Ah no è andata a farsi il Inca Mette l'illuminazione Queste lucine qua Una volta ogni tanto Fa le belle L'illuminazione Inca è uscito dal laboratorio Certo è uscito dal laboratorio Quale? Venite a vedere? Ma di quale stai parlando? Vieni L'è finito Eh no Ma che cazzo Ragazzi abbiamo un problema di contenimento Delle session Ma questo Doveteci Eventuali soluzioni nei commenti Ma questo è chi è Mirko? Eletro? Dicevo no Non bisogna mai Cioè intanto Non si espande Ci disse lui Perché tu cosa volevi fare? Mettere tipo uno E non 447 Così si espandeva più lentamente Magari Ah anche quello era Vabbè In caso non colpiamo l'elettro Se forse una volta Sarà ancora espanso Sì Ecco Bravo Mirko Bene Coltenimento un po' patocco Bene Allora adesso L'SCP di oggi Spendo Il coso qua L'SCP di oggi È il numero 151 Tu Mirko Sai cosa è l'SCP 151? No Cos'è l'SCP 151? È il quadro A te scienziato Non lo chiedo Perché Non so un cazzo Ecco Poi dopo l'uscita Ragazzi non so se Non so se ve lo ricordate Quando eravamo nel nostro mondo Era molto particolare Già come lo stavo facendo io Questo lavoro Benissimo Scusami Ti dobbiamo il lavoro Allora adesso Inca ti illustro Quello che è l'SCP di oggi Cosa fa Visto che tu non lo sai Era molto particolare L'ultima volta che l'abbiamo visto Nella serie Era molto particolare Avevamo potuto verificare Varie Ok Adesso io lo spiego Un'arte o miro Però lo spiego Intanto chiedo Inca di fare una cosa Premi il tasto E della tua inutile tastiera Ok Sì Vai allo scomparto Numero 5 Vedrai un cacciavite sotto Dove c'è scritto SCP items Sì Lo vedi? Sì Vedi che ci sono dei label Ragazzi sono i label Tipo Tipo questa roba qua Che c'è Ma questo qua Tipo Ah i cartelli Esatto Cerca label Hashtag 151 E mettilo qua In questo blocco qua E adesso intanto spiego Cosa fa L'SCP 151 L'SCP 151 Vi spiego subito È un quadro Però è un quadro Un po' particolare Perché non è il solito quadro Molto bello Fatto dal solito artista Molto famoso È un quadro Perché sento ancora il bandolero amici Ho trovato la targa E mettila fuori È un dipinto Vico Togli il bandolero È un dipinto Che Ti fa Soffocare Quello che raffigura Questo dipinto È in sé Il L'acqua In poche parole L'oceano Sotto La 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 linea Del Come cazzo si chiama Mirko? Il livello del mare Ecco bravo Il livello del mare Ecco bravissimo Esatto Però Possiamo dire che Guardandolo Ti fa soffocare Ok Quindi Non devi guardarlo In poche parole Ok Guarda ti piace In questo bellissimo Bellissimo dipinto Aspetta che vado a sboccare acqua Ecco Ti fa affogare Va bene Perché ti fa Immedesimare Talmente tanto All'interno Della Del dipinto Che ti fa Soffocare Vi direi che poi sostituiamo il muro Con questa roba qua Perché così C'è meno rischio di espansione Bene Un'altra Un'altra diceria Di questo SCP È che Dietro la cornice C'è Scritto Il nome Di tutte le persone Che ha Ammazzato Fatto sta che io Non lo vedo Esatto Severe discord Ok Dove ci sono tanti ruoli simpatici E Mirko appena conquistato Il ruolo del lava piatti Ora Inca ti ha già chiesto Di mettermi le luci qua dentro Mirko evita di correre come un pazzo E poi Ok Chiederei a Inca E poi fai molt' testa Esatto Di testarlo Bravissimo Sei contento Inca Di venire separato Voi L'hai piazzato tu l'SSP Sì l'ho piazzato già io Ok Mi l'hai fatto già vedere Allora cella Molto basica Esatto Però è funzionale Perché la cosa Secondo me questo qua Questo SCPV qua Non è il rischio di Non rischia di Di fuggire Perché è solamente un dipinto Bisogna solamente fare in modo Che non sia facilmente visibile Ma sia facilmente contenibile Quindi all'interno di una cella Di acciaio Nascosto dietro la vetrata Dietro un tronco Secondo me è un'ottima idea Questo almeno non viene visto direttamente E siamo a posto Inca Sei tu in sopravvivenza? No Mirko evita di aprire la porta 455 volte Visto che poi ci dà molto fastidio Grazie Ok Ti invito A entrare Inca Ok Vai Prego Aspetta Prima che muoio Pia il mio testamento Oh Mirko No lo piglio io Dammi il piglio E tu il testamento Che il testamento Leggilo Eh infatti lo proprio lo fare Lo modifico va bene? Ok perfetto Vado? No aspetta Come mie ultime parole Richiedo Mirko Il ruolo Di lava Piatti Dammi Quella è una frase da aggiungere No lo modifica Bene vai Ok vai Vai Ahia Ok Non guardarlo subito Non guardarlo subito Guarda il muro Guarda il muro Guarda il muro Ok Allora L'SHP Si muo Si altera Quando tu lo guardi Tu non lo guardi Ma se tu guardi Tipo Non lo guardi Ma se tu ce l'hai nella visuale Prendi danno? Eh Non lo so Non lo sto neanche inquadrando Però Prova tipo a guardare Il tronco così Ok Lo verifico anche io Così no Tipo probabilmente Tipo questo ho messo io No vabbè allora Se fa F5 No Così sì Perché sì Ah perché c'è nella visuale Ma se io Giacomo lo guardo Di spieco Mi Cioè se io mi metto così È perché c'è nella visuale Vedo anche solo Se anche vedo solo un angolino Mi guardi la cornicina Ti sale sul colesterolo Allora fai una cosa Inca Se sono messo qua Vedo un piccolo angolo Ma non fa Inca fai una cosa Guarda il muro qua così Così sì E mettiti in F5 Ah no così no Poi in F5 No In F5 no Perfetto Adesso io ti chiedo Inca di morirci Perché voglio dire Cosa compare scritto in chat Dovrebbe essere scritto Inca è soffocato Ma perché se vado attaccato Non me lo conta L'originale o fake Sto quadro È originale Quanto danno ti fa Inca Tipo mezzo cuore Secondo in teoria Ma ti dà tempo di rigenerarti Sì Tipo mezzo cuore Però Tempo che ne perdo Di solito È più veloce La morte Da questa cosa Aspetta che aiuto un attimo Aspetta Poi teo Teo inca è affogato Però Un attimo Perché se Vorrebbe dire È affogato Infatti teo inca drone Che vuol dire Teo inca è affogato Però È affogato Esatto C'è scritto una cosa Che compare ogni volta Che mi chiedo Cioè Che è riuscito A ricontenere L'SCP 055 Mirko Puoi cercare Quale L'SCP 055 Però senza dirlo Che lo diremo Volta prossima Tu dimmi quando l'hai trovato Intanto Io penso Ah no Voglio fare un ultimo test Inca Mi riportate qua Sì Guarda Il coso Sei ancora in sopravvivenza? Sì Guarda il quadro Da qua C'è attraverso il vetro Non ti fa niente? No Ok Perché c'è un blocco Va bene Va bene Il vetro è considerato come blocco Bene Mirko sei posto? Siamo posto Volevo fare anzi no Un'ultima cosa prima Ok Ovvero Volevo andare a ricostruire qua La porta per l'ingresso Alla Alla zona di contenimento Ma non la voglio fare adesso in video Magari lo facciamo più tardi Ok E nel prossimo video già ci sarà Inca ci darai una mano Va bene? Ci sarà anche nel prossimo episodio Ah devi anche uscire Tu da qua Ti avrei deciso Grazie Perfetto Bene Detto questo Penso che il video può finire qua Perciò da G3.0 Mirko Trabble Teo Inca E poi che altro c'è Inca? Il lavapiatti E il lavapiatti Passo e chiudo Guarda come corrono un imbecille E poi non va bene? Grazie